L'ACA rischia il fallimento. L'amministratore unico dell'azienda comprensoriale acquedottistica che gestisce servizi idrici nei comuni delle province di Pescara, Chieti e Teramo, Vincenzo di Baldassarre, ha infatti comunicato alla RSU l'intenzione di presentare presso il Tribunale di Pescara istanza di concordato preventivo in continuità. La società, secondo i dati diffusi dal Presidente della Regione, è la più indebitata di tutte quelle pubbliche del settore, con 150 milioni di euro di debiti. Secondo l'amministratore, dichiara la CGL, nel caso in cui l'istanza venisse accolta dal Tribunale, la società potrebbe continuare a gestire il servizio idrico integrato con una cristallizzazione del debito alla data di presentazione della domanda, salvaguardando i livelli occupazionali. In una nota il sindacato spiega che da molto tempo la Filctem CGL di Pescara denuncia sia come la situazione finanziaria di Acasi è divenuta davvero insostenibile, sia il mancato consolidamento di un'efficace azione di riequilibrio economico finanziario e gestionale dell'azienda, pur tentata nell'ultimo periodo dall'azienda stessa, con la redazione di un piano di ristrutturazione aziendale che stava cercando di soddisfare i creditori, prevedendo piani di rientro dilazionati nel tempo. Evidentemente, continua il sindacato, i debiti sono così elevati che il nuovo amministratore unico, insediatosi da meno di un mese, ha pensato che l'unica via possibile per assicurare un futuro all'azienda sia quella di trasferire sul piano giudiziale il progetto di ristrutturazione già intrapreso. Tuttavia, la scelta del concordato preventivo assunta unilateralmente, senza l'avvallo dell'Assemblea dei Socii, senza confrontarsi con le parti sociali e alla vigilia della verifica da parte degli organismi di controllo dell'esistenza dei presupposti per il permanere dell'affidamento in house providing, rischia, secondo il sindacato, di compromettere irrimediabilmente il futuro della società. Il sindacato chiede quindi la convocazione urgente di un tavolo istituzionale che affronti il problema delle prospettive dell'ente e che sia finalizzato alla salvaguardia degli obiettivi di risanamento, di controllo pubblico, di gestione corretta e per sottrarre la gestione del servizio idrico a tentativi di speculazione e di privatizzazione selvaggia.